Il gruppo dei migranti, salvati sabato scorso in acque internazionali dalla Life Support Emergency e in viaggio verso il porto di Urtona, è composto da 38 uomini adulti e due minori non accompagnati, partiti dalla Libia e provenienti da Egitto, Siria, Bangladesh, Pakistan e Sudan. A rendere nota la composizione del gruppo è la prefettura di Chieti, chiamata a gestire le operazioni di prima accoglienza all'arrivo della nave panamense, che per la seconda volta attraccherà in Abruzzo. L'arrivo dei 40 migranti in viaggio tra le onde dell'Adriatico alla ricerca di un approdo sicuro è previsto per il primo pomeriggio di domani. Si tratta del quinto sbarco in regione dall'inizio del 2023. Le operazioni di prima accoglienza si svolgeranno tutte sulla banchina del porto di Urtona e, considerate la macchina organizzativa già rodata e l'assenza di criticità particolari segnalate nel gruppo, presumibilmente già nella serata di domani, i 40 migranti troveranno sistemazione nelle sedi assegnate dalla prefettura dell'Aquila, che in regione svolge il ruolo di coordinamento nella ripartizione tra le quattro province abruzzesi. Dato il loro esiguo numero, i 40 migranti, attesi per domani, dovrebbero quindi restare tutti in regione. Dalla prefettura di Pescara intanto arriva l'appello ai cittadini per mettere a disposizione strutture idonee per ospitare gli ultimi arrivati. Sfumata infatti l'ipotesi di una prima sistemazione dei nuovi migranti negli spazi dell'interporto di Manoppello, non autorizzati della regione per problemi di sicurezza, quelli destinati alla provincia di Pescara potrebbero nelle prossime ore trovare un'ospitalità provvisoria in una delle sei tende allestite in contrada Sant'Andrea nel territorio comunale di Manoppello, dove già da mesi è operativo un CAS per l'accoglienza dei migranti fuggiti da guerre, fame e povertà. Al centro di accoglienza straordinaria, gestito dalla società cooperativa Nuvola, a cui fanno capo anche altri CAS, non solo in provincia di Pescara ma anche altrove in regione, dunque si affiancheranno sei tende capaci di ospitare sei migranti ciascuna, che diventeranno così un'estensione stessa del CAS di Manoppello, allestito sui terreni dell'agriturismo moffa in contrada Colle Sant'Andrea. Per i migranti in arrivo a Ortona, la sistemazione nelle tende sarebbe però un extrema razio, per un tempo limitato e in attesa di una collocazione più adeguata, legata al fatto che in provincia di Pescara, al momento, mancano edifici e locali per l'accoglienza, ragione per cui la Prefettura in queste ore lancia un appello ai cittadini perché mettano a disposizione strutture inutilizzate per l'ospitalità dei migranti. Mediazione culturale, assistenza legale, vitto e alloggio, assistenza sanitaria, etnico-culturale, scolastica e integrazione anche lavorativa sono alcune delle attività che saranno gestite dal CAS di Manoppello, che domani potrebbe accogliere una parte dei migranti in arrivo a Ortona.